Comunque, professor, io mi so scocciato. Qua è un'ora che stiamo a camminare. Dov'è che ci sta portando? In cima a quella collina. Ma fino a sopra dobbiamo andare. Sì, signore. Sì, signore, dobbiamo seguire l'esempio di Robinson. Robinson, il negro d'Italia 1. No, Robinson Crusoe, il personaggio venuto fuori dalla penna di Daniel Defoe. Eh, figlio mio. Professor, diciamo un personaggio di un fumetto, allora. No, romanzo. E la storia di un signore inglese, pensano poco da 700, no? Che naufragò come noi in un'isola dei Caraibi e lui, per sincerarsi che l'isola era abitata, salì in cima ad una collina. Bestiale. Professor, ma questo Robinson poi trovò qualcuno sopra quest'isola? Come no, come no? Trovò un cannibale che pensano poco. Lui chiamò... Venerdì. Venerdì. Però che nome è scemo, eh? Cioè, se io incontro un cannibale, lo chiamo Guerrero, professor. E chi è? Come chi è? Come chi è Guerrero? La punta di diamante del Bari. Cioè, lei è proprio ignorante, professor, eh?